Ciao a tutti! Oggi prepareremo il torrone di cioccolato e nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 3 ore di rassodamento in frigo. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, cioccolato bianco, miele, nocciole tostate, zucchero di canna e pasta d'arancia o scorza d'arancia grattugiata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente, il cioccolato bianco ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 8. Rienire sul fondo del boccale con la spatola ed azionare il bimbi per 5 minuti, 50 gradi, velocità 2. Aggiungere lo zucchero di canna, il miele, la pasta d'arancia ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 3. Aggiungere le nocciole, velocità 2. Versare il composto in uno stampo da plum cake da 30x10. Compattare bene con le mani, coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il torrone dal frigo, adesso rimuovere dallo stampo, tagliare a fette e servire. Torrone di cioccolato e nocciole. Grazie e alla prossima ricetta! Torrone di cioccolato e nocciole. Grazie a tutti! Torrone di cioccolato e nocciole. Grazie a tutti!